E' tutto sommato fisiologico attendersi che la terra ceda sotto l'incessante pressione della pioggia caduta in quantità record quest'estate e a dirla tutta i danni sono limitati se si fa il conto delle precipitazioni. Gli esperti rivelano che il peggio potrebbe arrivare in autunno, la vegetazione indebolita dal maltempo non sarà più in grado di trattenere con le sue radici la terra e quanto più o meno sta accadendo a Corvara nel comune di Mosso in Val Passeria con 100.000 metri cubi di materiale già in movimento e che potrebbero cedere da un momento all'altro. Si è già da parecchi anni che si è mosso questa massa però negli ultimi mesi ha aumentato la velocità così adesso attendiamo che viene giù una notevole massa cioè 100.000 metri cubi e quello sarebbe bene un rischio e anche un danno per i masi. La situazione è nota da tre anni all'epoca la famiglia Brunner del maso Horn aveva chiesto e ottenuto dai geologi della provincia di monitorare la frana che ha continuato a muoversi lentamente fino agli ultimi giorni quando è stata registrata una notevole accelerazione. Per questo si è deciso di disporre l'evacuazione di due masi nelle ore notturne. Per Anna Brunner un momento di grande tristezza. Ha 87 anni e da tempo è costretta in sedia a rotelle e fa fatica a rassegnarsi all'idea di doversene andare di casa. Ma è il rischio che la frana si porti via tutto c'è e come e il problema è che potrebbe avvenire in ogni istante. Cristina Brunner racconta di essere ormai abituata a convivere con il maxismottamento e chiama in causa la fede. No, non ho pensato perché sono una persona che ho tante, una fede con Dio, con mio Dio e per questo sono molto tranquillo e lasciare viene cosa viene.